Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo il lungo itinerario dedicato alla preghiera, oggi diamo inizio a un nuovo ciclo di catechesi. Quindi, mi auguro che con questi itinerari della preghiera siamo riusciti a pregare un po' di meglio, a pregare un po' di più. Desidero riflettere su alcuni temi che l'Apostolo Paolo propone nella sua lettera ai Gallati. È una lettera molto importante, direi anzi decisiva, non solo per conoscere meglio l'Apostolo, ma soprattutto per considerare alcuni argomenti che egli affronta in profondità, mostrando la bellezza del Vangelo. In questa lettera, Paolo riporta parecchi riferimenti biografici che ci permettono di conoscere la sua conversione e la decisione di mettere la sua vita al servizio di Gesù Cristo. Egli affronta inoltre alcune tematiche molto importanti per la fede, come quelle della libertà, della grazia e del modo di vivere cristiano, che sono estremamente attuali perché toccano tanti aspetti della vita della Chiesa dei nostri giorni. È una lettera molto attuale questa, sembra scritta per i nostri tempi. Il primo tratto che emerge da questa lettera è la grande opera di evangelizzazione messa in atto dall'Apostolo, che almeno per due volte aveva visitato le comunità di Galazia durante i suoi viaggi missionari. Paolo si rivolge ai cristiani di quel territorio. Non sappiamo di preciso a quale zona geografica si riferisca, ne possiamo affermare con certezza la data in cui scrisse questa lettera. Sappiamo che i Galati erano un'antica popolazione celtica, che attraverso tante peripezie si erano stabiliti in quella stessa regione dell'Anatolia, che aveva il capoluogo nella città di Ancira, oggi Ankara, la capitale della Turchia. Erano lì. Paolo riferisce soltanto che a causa di una malattia fu costretto a fermarsi in quella regione. San Luca, negli Atti degli Apostoli, trova invece una motivazione più spirituale. Dice che attraversarono la Fricia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. I due fatti non sono in contraddizione, indicano piuttosto che la via dell'evangelizzazione non dipende sempre della nostra volontà e dai nostri progetti, ma richiede la disponibilità a lasciarsi plasmare e a seguire altri percorsi che non erano previsti. Fra voi c'è una famiglia che mi ha salutato e dice che deve imparare il lettone e non so qualtra lingua, perché andranno a missionare in quelle terre. E lo Spirito li porta anche oggi. Tanti missionari che lasciano la patria e vanno in un'altra terra a dare la missione. Ciò che verifichiamo comunque è che nella sua indefessa opere evangelizzazione l'Apostolo era riuscito a fondare diverse piccole comunità sparse nella regione della Galazia. Paolo quando arrivava a una città, a un popolo, a una regione, non faceva subito una grande cattedrale, niente, faceva le piccole comunità che sono il lievito della nostra cultura cristiana di oggi. Incominciava facendo piccole comunità e queste piccole comunità crescevano, crescevano e andavano avanti. Anche oggi questo metodo pastorale si fa in ogni regione missionarie. Ho ricevuto una lettera la settimana scorsa ad un missionario della Papua, Nuova Guinea, e mi dice che sta predicando l'Evangelio nella selva. La gente che non conosce neppure chi fosse Gesù Cristo. È bello, eh? Si iniziano a fare le piccole comunità. Anche oggi questo metodo è il metodo evangelizzatore della prima evangelizzazione. Ciò che a noi preme notare è la preoccupazione pastorale di Paolo. È tutto fuoco lui, no? Dopo aver fondato queste chiese, si accorge di un grande pericolo. Il pastore è come il papà o la mamma, no? Che subito si accorrono dei pericoli dei figli. Un grande pericolo che corrono per la loro crescita nella fede. Crescono e vengono i pericoli. Come diceva uno, vengono gli avoltoi a fare straga nella comunità. Si erano infatti infiltrati alcuni cristiani venuti dal giudaismo, i quali con astuzia cominciarono a seminare teorie contrarie all'insegnamento dell'Apostole, giungendo perfino a denigrare la sua persona. Incominciano con la dottrina, no? E poi denigrano l'Apostolo. È la strada del sempre, togliere l'autorità all'Apostolo. Come si vede, è una pratica antica questa, di presentarsi in alcune occasioni come gli unici possessori della verità, i puri, e puntare a sminuire anche con la calunnia il lavoro svolto delle altre. Questi avversari di Paolo sostenevano che anche i pagani dovevano essere sottoposti alla circoncisione e vivere secondo le regole della legge mosaica. tornano indietro alle osservanze di prima, le cose che sono state oltrepassate dal Vangelo. Tornano indietro. I Galati, quindi, avrebbero dovuto rinunciare alla loro identità culturale per assoggettarsi a norme, a prescrizioni e usanze tipiche degli ebrei. Non solo. Quegli avversari sostenevano che Paolo non era un vero apostolo e quindi non aveva nessuna autorità per predicare il Vangelo. Tante volte noi vediamo questo, pensiamo a qualche comunità cristiana o qualche diocesi, si incominciano le storie e poi finiscono per screditare il parroco, il Vescovo. È proprio la strada del maligno, di questa gente che divide, che non sa costruire. E in questa lettera ai Galati vediamo questa procedura. I Galati si trovavano in una situazione di crisi. Che dovevano fare? Ascoltare e seguire quanto Paolo aveva loro predicato? Oppure dare retta ai nuovi predicatori che lo accusavano? È facile immaginare lo stato di incertezza che animava i loro cuori. Per loro aver conosciuto Gesù e creduto all'opera di salvezza realizzata con la sua morte e resurrezione era davvero inizio di una vita nuova, di una vita di libertà. Avevano intrappresso un percorso che permetteva loro di essere finalmente liberi, nonostante la loro storia fosse intessuta da tante forme di violenta schiavitù, non da ultimo quella che li sommetteva l'imperatore di Roma. Pertanto, davanti alle critiche dei nuovi predicatori, si sentivano smarritti e sentivano incerti su come comportarsi. Ma chi ha ragione? Questo Paolo o questa gente che viene adesso insegnando altre cose, no? A chi devo dare retta? Insomma, la posta in gioco era davvero grande. Questa condizione, ho accennato recentemente, non è lontana dall'esperienza che diversi cristiani vivono ai nostri giorni. Non mancano nemmeno oggi, infatti, predicatori che, soprattutto attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, possono turvare le comunità. Si presentano, infatti, non anzitutto per annunciare il Vangelo di Dio che ama l'uomo in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, ma per ribadire con insistenza da vari e propri custodi della verità, così si chiamano loro, quale sia il modo migliore per essere cristiani. E con forza affermano che il cristianessimo vero è quello a cui sono legati loro, spesso identificato con certe forme del passato, e che la soluzione alle crisi odierne è ritornare indietro, per non perdere la genuinità della fede. Anche oggi, come allora, c'è, insomma, la tentazione di rinchiudersi in alcune certezze acquisite in tradizioni passate. Ma come possiamo riconoscere questa gente? Per esempio, una delle tracce del modo di procedere è la rigidità. Davanti alla predicazione del Vangelo che ci fa liberi, ci fa gioiosi, questi sono dei rigidi. Sempre la rigidità. Si deve fare questo, si deve fare quell'altro. La rigidità è proprio di questa gente, no? Seguire l'insegnamento dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Gallati ci farà bene per comprendere quale strada seguire. Quella indicata dall'Apostolo è la via liberante sempre nuova di Gesù crocifisso e risorto. È la via dell'annuncio che si realizza attraverso l'umiltà e la fraternità. I nuovi predicatori non conoscono cosa sia umiltà, cosa sia fraternità. È la via della fiducia mite e obbediente. I nuovi predicatori non conoscono la mitezza nell'obbedienza. E questa via mite e obbediente va avanti nella certezza che lo Spirito Santo opera in ogni epoca nella Chiesa. In ultima istanza, la fede nello Spirito Santo presente nella Chiesa ci porta avanti e ci salverà. Grazie. Grazie.